Il Pinocchio è fatto di scarti di lavorazione, di pezzi difettati, di frammenti, perché apparentemente sarebbero dei rifiuti, ma nella realtà non lo sono. Anche questi bisogna volergli bene, come bisogna voler bene a tutti i materiali. Non sono d'accordo nel dover voler bene solo ai materiali naturali. Non è detto questo. Bisogna sapere bene lavorare sia con la materia prima che con la materia prima e seconda. Il Pinocchio è questo Pinocchio che ci parla di rifiuti, di problemi ambientali, di bugie, ma ci dice anche che dobbiamo fare attenzione a ciò che sono i materiali, che cosa sono i rifiuti, che fra l'altro non possono più esistere. I rifiuti sono denaro, sono una risorsa. Non ci deve essere un prodotto industriale, un prodotto artigianale, un prodotto d'arte che non sia un materiale che poi ritorna ad essere materia, materia viva, materia vera, materia su cui fare altre cose ancora.